Puntuale alle 9 in Bacino San Marco il colpo di cannone domenica ha dato il via gli 8300 protagonisti della 44esima Voga Longa che con le 2300 imbarcazioni di ogni tipo ha colorato la laguna. Un appuntamento diventato sempre più internazionale che ha visto partecipanti da varie parti del mondo. Dopo il Bacino di San Marco i regatanti hanno puntato gli scafi verso Sant'Elena, Le Vignole, Sant'Erasmo e San Francesco del Deserto, poi il transito a Burano, Murano e il ritorno a Venezia attraversando il rio di Canareggio con arrivo appunto della Dogana dopo 32 chilometri di voga. Quest'anno ha preso parte alla manifestazione anche una particolare imbarcazione, un Dragon Bot con equipaggio italiano 20 vogatori con i colori e le bandiere del Tibet lavorate e dipinte da alcuni artisti contemporanei con il loro messaggio creativo e spirituale. Nell'imbarcazione anche una persona con la maschera del Dalai Lama. Ingenti le misure di sicurezza anche per garantire soccorso immediato nell'eventualità che qualcuno si capovolgesse con la barca. Infatti è successo a una canoa in zona Burano verso le 11.30 ma gli occupanti sono stati subito rimessi in carreggiata. Poi tutto è filato liscio. Per garantire la navigazione in sicurezza le corse CTV sono state rimodulate riprendendo il normale servizio nel primo pomeriggio un'ora più tardi rispetto a quanto preventivato.